Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un unboxing della roba scout Perfetto, come si vede dall'immagine è una busta di scout shop e iniziamo subito ad aprirla Come vedete c'è dentro un'altra busta con un cartellino con la pubblicità, con un lupetto probabilmente E le dettaglie, varie informazioni sul prodotto Poi tiriamo via anche questo bellissimo imballo E troviamo, oddio, delle braghe scout Braghe, guardate So che è un articolo nuovo dell'ultima generazione Che è andato poco di moda negli ultimi due anni, almeno nel reparto E quindi vi consiglio molto l'utilizzo di questo prodotto Perché è molto comodo d'inverno, soprattutto perché sono braghette corte Quindi per rinfrescare meglio i gingilli per i maschietti E per fare la pelle liscia alle ragazzine Bene, con questo video è tutto Ci vediamo al prossimo acquisto e al prossimo unboxing